Sono risultati negativi i test alcolici effettuati sul sangue dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente avvenuto sabato notte, in contrada Grotta Rossa, sulla strada statale 640 Agrigento Canicattì, dove hanno perso la vita 4 persone e 3 sono rimaste ferite. Nel tragico scontro sono morti infatti Giovanni Messina, di 52 anni, comandante della Polstrada di Palermo ed ex comandante della Polizia Stradale di Agrigento, e il padre Alfonso, di 80 anni, che viaggiavano a bordo di una Peugeot 407. Morti anche Gioacchino Castellana, di 24 anni, e Giampiero Camardo, di 28, che viaggiavano a bordo invece di una BMW 120. Gli investigatori di Castanissetta fanno sapere che domani saranno effettuati rilevi planimetrici per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dell'incidente. Oggi intanto verranno celebrati i funerali a Castro Filippo di Giovanni Messina e del padre Alfonso. Grazie a tutti.